Ok, passerei ad un altro gruppo, allora, perdonatemi in anticipo ma i nomi sono veramente difficili e mi hanno istruita prima su come si dicono e spero di dirli giusti. Allora, la serie è Leo Drae, loro sono Iris, Alessia, Lisa, Simone e Luca e i personaggi sono Idyll, Kerfate Fruer, Iler, Iste e Ikerun Dos. Ce l'ho fatta! Oh-oh-oh oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Listen to the voice and the cry Of darkness changing to light The light that revives your mind The light that gives back good life Conquer those demons inside of your head Master your masters and end the threads Wake up your heart by the power of your will Change dark to light and mayors kill Now take charge of your life And feel the action inside Be free and rise from the dead In a change, now let your life spread You'll be who you wanna be Transform your own destiny As storms become such rise and rise In a dark eternal delight Yeah, yeah Yeah, yeah Ooh 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 Mm Ooh